Di solito mi diceva, dopo aver fatto gol, che ero un giocatore scarso, perché se era forte facevo due o tre gol a partita. Suo padre Giuseppe, scomparso qualche mese fa, lo motivava così, in questo modo ironico. Lui rispondeva e risponde ancora oggi a quell'affettuosa provocazione con gol pesanti e mai banali. Gigi Castaldo è la storia dell'Avellino degli ultimi cinque anni, l'ha scritta e vuole continuare a scriverla. Non gli importa di avere 36 anni, non gli importa se si è sentito dire sei finito, basta, battene. Lui da leader silenzioso preferisce parlare sul campo, trascinare l'Avellino con quell'autorevolezza che solo i grandi hanno. Ha promesso che la sua squadra si sarebbe salvata e così sta facendo. Ci ha messo 76 minuti e alla fine ci è riuscito in uno stadio partenio-lombardi, mai come ieri sera incredibilmente pieno, oltre 12.000 persone. Uno stadio bello, a stendere uno spezia sempre agguerrito, fino alla fine. Castaldo, ma anche Molina, Angawa, Radu e tutti quelli che Claudio Foscarini, saggio ed equilibrato condottiero, sono stati protagonisti di una notte da veri lupi. Perdonateci la banalità, una notte in cui è stato davvero emozionante, intenso sentirsi Irpini. Una notte in cui c'è stato spazio anche per un abbraccio sincero a chi, come i lavoratori dell'Ipercop, sta giocando una partita decisiva e delicata. Una notte in cui tutti gli Irpini hanno gioito e pianto, anche a distanza, come quelli del Club Roma. Una notte che resterà nella mente e nel cuore. Ma venerdì sera ci sarà un'altra battaglia, quella di Terni, e lì non si può ancora una volta sbagliare, lì c'è l'inferno o il paradiso ad attendere i lupi e tutti noi.